Amici Asprias, che fatica essere tifosi del Parma, alti e bassi continui, però adesso per chi ci l'ha detto, fino alla fine della stagione sarà così, saranno alti e bassi, speriamo che un qualche altro ci sia anche in casa così riusciamo a dare anche una bella partita, però l'importante è aver battuto un diretto concorrente ai playoff. Bene, premio Gotham di Regina Parma va a Drissa Camara, perché ieri ha dato sostanza, ha dato qualità, ha dato corsa, ha dato brio alla manovra e quindi a lui il premio Gotham, naturalmente grande Cristian Ansaldi, grande Vasquez, però Drissa Camara. E un altro premio Gotham speciale invece lo voglio dare ai ragazzi e ai boys del Parma che sono andati a Reggio Calabria. perché veramente, veramente loro sono il dodicesimo uomo in campo, grazie ragazzi per sosseguire sempre e così assolutamente la squadra.